Ben ritrovati in questa seconda parte di questa seconda giornata che abbiamo trascorso insieme agli amici dello Sciclub Pernate. C'è stato oggi a far divertire bambini e anche adulti il mago Magigus, ci sono stati anche adulti e bambini che ho visto provare dentro con grande piacere il simulatore di sci e anche l'arrampicata. Adesso vado subito a presentare questi amici dello Sciclub Pernate. È un piacere presentare Eugenio Scimone, Filippo Villeri, Roberto Castiglioni, Mario Ferrari, Roberto Trevisan. Domenico Ferrarese, Max Galbiate, Francesca Ferrarese, Marco Boglio, alla regia lo salutiamo. Simone Bozzetto, un altro saluto alla regia, Sebastiano Spada e il presidente Mauro Rosa. Tutti questi applausi non sono per me, sono per loro perché se siamo qua a festeggiare 30 anni con i numeri di quest'anno il merito è tutto loro. Quindi un grazie e un applauso a chi ha lavorato dietro le quinte e sui pullman tutte le domeniche. Un ringraziamento a tutti quelli che oggi sono venuti a trovarci, che erano veramente tanti, speriamo di replicare anche domani con un'altra giornata speciale di eventi e di organizzazione con il simulatore, con la parete di roccia e con tutto quello che abbiamo organizzato in questa festa. Per noi il raggiungere 30 anni è stato un bel traguardo, contiamo di andare avanti. La cosa positiva è che questo gruppo ha iniziato 30 anni fa, magari non tutti loro, però lo spirito di questo gruppo non è cambiato. Sono cambiati gli elementi, sono cambiate le situazioni, abbiamo migliorato l'organizzazione implementandola con un sacco di cose, ma lo spirito è sempre rimasto quello dell'aggregazione, del divertirci insieme e del fare gruppo. Questo ha funzionato, funziona benissimo e quindi contiamo di fare cose importantissime anche in questa stagione. Non mi dilungherei molto su questi argomenti, io a questo punto sarei dell'avviso di partire col proseguo della serata? No, un attimo, prima di partire lui ha fatto i ringraziamenti a noi, ma noi dobbiamo ringraziare Mauro, perché grazie a lui e a suo zio che hanno fondato lo Sciclub 30 anni fa, partendo da un gruppo di amici, se siamo diventati quello che siamo, al di là del nostro aiuto, lo dobbiamo anche a loro. Quindi un grande applauso al presidente, e adesso io vi farei vedere un attimino qualcosa per capire bene di chi stiamo parlando questa sera, per farci un'idea veramente del personaggio che questa sera è presente qua da noi a Novara. Grazie a tutti. 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 il campione di Coppa del Mondo Massimiliano Blardone un applauso insieme a Massimiliano questa sera abbiamo anche il direttore della rivista sciare Marco Di Marco buonasera prima di iniziare l'intervista una cosa che mi ha incuriosito Max, oggi ho visto che stavi provando il simulatore, che esperienza è stata? buonasera a tutti è stato emozionante perché sono ritornato un pochino in competizione pensavo di mollare invece si avvicina a Solden ho iniziato a provare un attimino quella sensazione quella adrenalina che in questa settimana da tanti anni mi ha un po' accompagnato quindi mi sono divertito di là perché mi sono immedesimato un pochino ancora una volta atleta ecco nel 99 ho visto che ho letto che hai vinto la Mondiali Juniors la medaglia d'oro raccontaci quella esperienza diciamo che l'avventura è partita tanti 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 anni fa e siamo arrivati diciamo al primo vero successo internazionale come hai detto tu nel 99 con la vittoria ai campionati del mondo junior in slalom una vittoria che sicuramente mi ha galvanizzato e mi ha mi ha reso molto felice perché poi da lì diciamo che ho capito un attimino che forse forse valeva la pena così approfondire approfondire l'agromento e dandoci un attimino ancora più da fare e cercando di raggiungere quel sogno che già mi ero prefissato già da piccolino ecco che era quello di arrivare a Coppa del Mondo grandissimi risultati dopo prego direttore allora buonasera senti Max siamo qua in casa di uno sciclub molto importante per loro è un sogno averti qua vorrei che tu spiegassi cosa rimane dentro a te lo posso chiedere cosa rimane dentro a un campione o comunque un atleta che è riuscito ad arrivare lassù cosa rimane dello sciclub cioè dove è partito tutto ieri sera con gli origoni c'era un ragazzino alto così poi se lo sono io ho fatto uno scherzo se lo sono portato via mi sa che lo sci alpino l'ha perso proverà che lo metto lanciato però insomma inizia tutto da qua e quando sei lì sul podio comunque poi insomma non sempre ritorna in mente o si cita lo sciclub eppure parte tutto da qua giusto? esatto come hai detto tu lo sciclub è fondamentale e basilare per quello che riguarda diciamo un pochino anche l'avviamento allo sport non solo all'agonismo perché non parliamo solo dell'agonismo ma proprio allo sport in generale adesso se parliamo di sci ma comunque anche di altri sport quindi diciamo che lo sganciarsi dalla famiglia anche a 5-6 anni non è facile no? perché comunque per un genitore lasciare la responsabilità a un altro a un allenatore di portare il proprio figlio a sciare c'è sempre un pochino io lo vedo adesso da genitore diciamo che fa un po' strano no? e questo sicuramente oltre alla scuola che è fondamentale perché è uno stile di vita è un insegnamento e ci si imparano tante cose durante il periodo scolastico anche lo sport secondo me fa parte di un insegnamento di vita ecco quindi ritornando allo sci club ripeto è fondamentale bisognerebbe un pochino integrare grazie anche a tanti sci club che ci sono in Italia riuscire a integrarsi un pochino anche nelle scuole no? cosa che tanti stanno già facendo ecco e mi piacerebbe in futuro vedere questo questa aggregazione questo connubio sport e scuola un pochino più approfondito ecco e spero che tutti siano d'accordo siete d'accordo? ah boh meno male hai citato prima insomma tra una settimana c'è Sölden è la prima volta che non ti prepari dopo tanti tanti anni che sensazione provi? ma fortunatamente sto bene ecco sto bene è il primo anno sì perché alla fine la mia carriera è durata in Coppa del Mondo è durata 16 anni ho fatto 16 aperture di Coppa del Mondo e ciò vuol dire che fortunatamente sono riuscito anche a rimanere integro per 16 anni ecco poi gli acciacchi vabbè fanno parte del mestiere dello sport della vita quotidiana però è chiaro che fa un po' strano no? ma fortunatamente ho tante cose da fare quindi sono sempre molto attivo e non è detta che non mi vedrai a soldi o comunque non mi sentirai quindi si sa mai ecco forse farò parte ancora dal vostro come posso dire sicuramente farò parte un pochino ancora di quello che riguarda la Coppa del Mondo ecco però magari se mi stuzzichi lo dico io ecco lanciamo l'anteprima non si può dire ci risentiremo non mi vogliono far dire ci risentiamo presto ci vedremo ci risentiremo dai vabbè ok senti facciamo un riepilogo veloce dei tuoi trionfi te li ricordi? no vabbè quello quello me li ricordo perché diciamo che vabbè la mia carriera come ho detto è durata 16 anni Coppa del Mondo 11 anni nei primi 7 al mondo 7 vittorie poi i secondi posti non me li ricordo sinceramente 12 o mi sembra se non sbaglio comunque vabbè 25 e po' di Coppa del Mondo ho partecipato a 3 olimpiadi 7 mondiali e quindi ho detto penso di aver dato tutto ecco lo so io io ho sempre fatto le gare però non mi sono mai raccontato ecco quindi non lo so sicuramente ne saprai più te ecco Max una domanda tantissime vittorie in Coppa del Mondo e i campionati non ho capito tantissime vittorie se i campionati che in Coppa anche tre grandi olimpiadi partiamo da quella del 2002 di Salt Lake City che ricordo hai? diciamo che l'olimpiadi di Salt Lake è stato è stato uno dei tanti sogni è diventato realtà ecco perché comunque quando hai degli obiettivi quando comunque sei bambino hai vedi davanti a te personaggi in televisione come Tomba Von Grunig Gannibar e chi più ne ha più ne metta li vedi tutte le mattine ti svegli a guardare le gare e sei piccolino come può essere questo bambino qua davanti a me è chiaro che cerchi di immedesimarti ti piacerebbe un giorno diventare un campione e poi diciamo che il riuscire a arrivare a partecipare appunto a dei giochi olimpici è stato per me è stato è stato un sogno ma già lì nello stesso momento avrei voluto raggiungere quel risultato diciamo che solo in pochi atleti poi hanno la fortuna di raggiungere che sono una delle tre medaglie ecco è stata una bellissima esperienza la prima olimpiadi come le altre ma soprattutto la prima perché poi vabbè la prima manche la prima manche mi ricordo che mi sono trovato lì a secondo posto in mezzo a Herman Mayer e Berard gente insomma che ha fatto la storia dello sci e poi per una sfortuna chiamiamola così il destino ha voluto quello e sono scivolato la seconda manche però sono rimasto in piedi ugualmente sono arrivato all'arrivo sono arrivato ottavo e è stata dura quella giornata lì perché mi sono proprio in mi sono in molto e sono rimasto in camera non so per quante ore o giornate però vabbè insomma alla fine bisogna provarci se uno non ci prova non riuscirà mai a raggiungere determinati risultati almeno questa è la mia filosofia quella invece del 2006 a Torino in Italia molta emozione beh quella è stata un'altra bella emozione perché comunque in casa vicino a casa però l'ho vissuta diciamo più intensamente dall'altra parte del mondo perché ovviamente il periodo è stato più lungo ecco invece qui in casa diciamo che ci si sganciava abbastanza da quello che era villaggio olimpico situazione olimpica quindi intorno diciamo alle impianti alle piste di gara ci siamo spostati qui nelle zone vicino a casa a fare allenamenti quindi è stata una cosa un po' diversa però è stata una bellissima esperienza perché hanno fatto anche molti fan hanno fatto casa max a Sestriere quindi prendeva un ristorante così quindi è un bellissimo ricordo perché poi quando andavo a mangiare non c'era mai posto vabbè allora vado nel mio albergo sto là tranquillo usate il nome fate come ci avete voglia ciao grazie l'ultima quella del 2010 Vancouver che ricordo ti porti nel cuore l'ultima quella nel 2010 a Vancouver che ricordo ti porti beh quella è stata un'altra bella tappa importante della mia carriera perché in primis ho portato la mia famiglia per un periodo e quindi quella era proprio una cosa molto ci tenevo proprio a fare una cosa di questo genere e ho portato la mia compagna Simona che era da poco che usciamo insieme e quindi abbiamo fatto anche questa esperienza e poi è chiaro che voglio dire la terza olimpiade non dico che già sei già abituato ecco però sai già cosa va incontro una serie di dinamiche che comunque vabbè fanno parte diciamo dei giochi olimpici comunque è stata anche lì una bella esperienza e devo dire che quel periodo è stato molto intenso perché comunque sai non sei più l'inizio della carriera le occasioni diminuiscono sempre di più e quindi arrivi sempre lì a un passo e non riesci a vincere questa medaglia e quindi lì veramente ci tenevo tantissimo a raggiungere questo sogno questo obiettivo e sicuramente è stata una una bella gara ma è mancato quello che avrei voluto portare a casa insomma prego direttore senti nel filmato ho visto una delle prime tue immagini quando eri alto così che avevi già un abbozzo di quell'espressione che ti vediamo sempre all'impartenza che sembra che stai spaccando stai spaccando il mondo poi in realtà sei non sei un tipo nervoso o particolarmente irrascibile insomma conoscendoti bene è una carica quel gesto che fai con l'espressione in partenza ti dà una carica o è spontaneo non te ne accorgi neanche? ma ormai ha sempre fatto parte diciamo della della come posso dire un rito un rito del mio rito diciamo così no? ma del mio rito e del mio essere perché comunque per me è importante è sempre stata importante l'attivazione per riuscire a fare la performance a differenza magari di altri atleti che li vedi più tranquilli magari unirce della situazione prendendo esempio lui che insomma ha vinto qualcosina ha vinto diciamo e quindi lui è l'opposto di me è molto più tranquillo però visivamente poi magari è ancora più in di me in partenza quindi sono atteggiamenti diversi che poi portano allo stesso diciamo alla stessa attivazione prima ancora di fare la gara sono metodi ecco io ho sempre avuto bisogno di questo fortunatamente diciamo che sono riuscito sempre a accendere il motore prima di partire Siti nell'ambito della tua carriera qual è stato il tuo momento più felice ma non parlo di una vittoria in tutta la tua carriera diciamo da quando sei entrato in Coppa del Mondo forse il primo giorno non so il primo giorno no il primo giorno è interessante perché alla fine se lo racconto uno dice ma te sei pazzo proprio perché mi ricordo che è arrivata questa convocazione beh io sono arrivato alla prima gara di Coppa del Mondo da un infortunio quindi ho fatto tutta una stagione fuori dai giochi dalle gare e sono rientrato diciamo in squadra A mi hanno fatto fare appunto le qualifiche al passo del tonale su biacciaio e sono riuscito ad agguantare una qualifica per Solden già lì voglio dire già a mille poi questa partenza così per Solden sono arrivato in mezzo come ho detto prima a questi grandi campioni che vedi in televisione fino a mezz'ora prima e dici beh ma cosa ci faccio io qua ho in mezzo questi qua e poi diciamo che è andata la gara di per sé è andata benissimo perché è chiaro prima gara di Coppa del Mondo qualifica partivo col 67 diciamo che il dopotombe è stato abbastanza pesantino per per gli atleti diciamo di quei di quei tempi perché comunque nell'anno 2000 ho fatto l'esordio in Coppa del Mondo l'ottombe aveva smesso nel 97 se non sbaglio quindi insomma poca attenzione però tutti ne parlavano sul fatto che insomma il dopotomba il dopotomba però è stato bello quel giorno perché arrivai in partenza già in ritardo infatti tutti incavolati neri perché io sportivissimo al 45 ero in metà pista che guardavo gli altri scendere sai come i bambini quando guardano la gara così a un certo punto mi rendo conto della situazione sua manetta questo via sono arrivato su di corsa c'erano tre persone in partenza così dell'Italia che mi guardavano me ne hanno detto di tutti i colori uno che mi tirava via la giacca l'altro che mi apriva le zip perché mancavano tre numeri dovevo partire alla gara ci puoi immaginare Flavio Roda che allora era responsabile della Coppa del Mondo dopo la gara non puoi immaginare che mazzo mi ha fatto un cavolato nero perché sono arrivato in ritardo quindi puoi immaginare che esordio è stato un esordio infatti me lo ricorderò per sempre e poi vabbè dopo dopo c'è stato tutto il resto senti prendiamo delle curiosità spiegaci qual è l'altra fila vi vediamo quando alle ore 10 in genere parte la prima manche cosa succede nei momenti immediatamente prima nei momenti prima diciamo dipende un pochino dalle dalle località ecco sciistiche quindi però in linea di massima sveglia presto tipo 6 6 e mezzo cioè dipende un pochino comunque apertura anticipata degli impianti per la gara di Coppa del Mondo si sale ricognizione come regolamento deve essere finita la ricognizione un'ora prima della partenza del primo concorrente quindi per forza quello è il regolamento quindi in quell'ora buca diciamo dopo la ricognizione si usa per fare un po' di riscaldamento diciamo nelle piste riservate a noi e fai quei 2 3 4 giri così vai magari un po' al bar ti rilassi un pochino cerchi di fare magari un po' di stretch un po' come si dice un po' di automotivazione poi se parti nei primi numeri scendi subito e vai in partenza se no se parti un po' più indietro magari ti guardi i primi in televisione ti fai un attimo un'idea su quello che è la pista sui punti cruciali in modo tale da sperare ad andare forte poi senti c'è stato in squadra un atleta con cui hai legato di più sì sicuramente il mio compagno storico è stato Alexander Ploner che ha fatto 11 stagioni di Coppa del Mondo insieme a me per 11 anni abbiamo condiviso la nostra camera i nostri le nostre incavolature diciamo così perché c'è un bambino qua di sotto non posso stare attento come parlo e quindi i nostri successi è stato bello è stata veramente una bellissima esperienza davvero che solo adesso col tempo pian piano che sto uscendo un pochino da quello che è il mondo degli atleti riesco a rendermi conto di quello che ho vissuto è bello perché è come se ripartisse diciamo un'altra vita però con dei ricordi bellissimi non si vive di ricordi però è bello anche pensarci ogni tanto e raccontarli senti invece forse un po' per colpa nostra cioè colpa un po' della stampa si è creata un po' questa sana rivalità con Davide e Simoncelli è una favola o era soltanto qualcosina c'era beh diciamo che ne sono uscite di cotte di crude infatti io e lui ci facevano di quelle risate che parlano a bomba va bene il problema è che non è che parlavano mai una volta e dire vabbè però alla fine sono in squadra insieme insomma voglio dire sì la rivalità c'è ma è normale ma non è che ci siamo mai scannati da dire litigate mani addosso e cazzotti non è mai successo assolutamente niente abbiamo avuto una discussione barra due in sedici anni di carriera quindi c'è discussioni normalissime niente di che ecco chiaro è che si è parlato tanto ma sinceramente non sono anche il motivo dico la verità non saprei ma è successo niente abbiamo parlato con abbiamo parlato con Davide ma poco tempo fa che ci siamo rivisti ed è uscita di nuovo un po' sta storia qua mentre parlavamo che eravamo in un posto e ho detto ma pensa a quante che casini che tiravamo fuori ogni tanto eppure e lui ci facevano di quelle risate di quelle alle Senti invece qual è il il campione che hai conosciuto in pista o magari non campione sono un atleta che che ammiri o è ammirato di più beh diciamo che ho avuto la fortuna di di gareggiare con grandissimi campioni diciamo del passato e del presente quindi questo è stato già una fortuna per me riuscire a scontrarmi per la vittoria per i podi per delle belle gare sia con i campioni del passato che con quelle del presente è qualcosa di eccezionale di strano che forse magari in pochi anche magari hanno una fortuna di raccontare io ho avuto così mi hanno accompagnato diciamo in questa mia carriera personaggi come come Fongruni come Freddy Nieberg come Eberhardt Erman Mayer per poi passare negli ultimi anni a Hirscher Pinturo Christoffersen Christoffersen è del 94 io non lo dico di che anno sono però voglio dire fa strano ma è stato bello ecco quindi non ce n'è uno su tutti però ho dei bellissimi ricordi di tutti questi campioni perché poi tutti hanno i propri pregi i propri difetti e quindi da Christoffersen a Hirscher a Pinturo a Erman Mayer che sembrava una persona molto aggressiva poi alla fine era una persona semplicissima come Fongruni che è un gran signore è sempre stato definito così quindi a Freddy Nieberg che era un grandissimo sciatore uno su tutti non ce l'ho l'idolo sì che è sempre stato tomba però un grande campione con cui ho gareggiato diciamo che diciamo che prevale sugli altri non secondo me non non ce l'ho ecco forse te stesso non so no no senti un bel giorno la FIS la federazione internazionale ha deciso adesso cambiamo le sciancrature degli sci lì forse è iniziato un periodo forse più difficile per te non sei più riuscito a trovare il giusto feeling con gli attrezzi con la neve col gigante beh sì diciamo che questo cambiamento non è stato proprio una furbata via perché alla fine sono state fatte delle scelte basate solo discursivamente su dei numeri fatti su una cattedra ecco poi alla fine il risultato sulla neve è stato totalmente l'opposto come abbiamo sempre detto tutti noi atleti abbiamo combattuto molto su questo discorso dei cambiamenti dei materiali perché non è stato secondo noi come atleti basato sulla sicurezza ecco perché è successo proprio l'esatto opposto quindi i dati parlano chiaro però ciò non toglie che come sempre detto uno si deve abituare deve cercare di abituarsi con quello che è le regole sono fatte anche per essere rispettate quindi come nello sci in formula 1 nelle moto quando cambiano le regole ti devi un attimo adattare poi purtroppo è giusto o sbagliato che siano però diciamo che sono riuscito a chiudere ugualmente in bellezza la carriera poi ci arriviamo poi ci arriviamo senti uno dei più agguerriti contro la FIS per queste regole era Ted Ligeti è uscito con delle sparate veramente abbastanza forti però poi lui da quel momento lì già vinceva ma ha cominciato a vincere con una superiorità incredibile quindi avrebbe comunque vinto con qualsiasi sci secondo te oppure ha trovato il giusto compromesso tra potenza e tecnica e sci Ligeti si è presentato alle finali del 2012 a Slanmi con il 195 35 metri tutte le altre aziende non l'avevano neanche costruito ancora quindi non so come abbia fatto sinceramente a presentarsi quel giorno lì con quelli sci però ciò non toglie che comunque lui è un grande campione ha dimostrato e quindi non è stato di certo un vantaggio per lui o uno svantaggio ha vinto con il sistema vecchio ha vinto con il sistema nuovo è un grande campione e basta perché alla fine è uno che vince tre coppe del mondo cinque coppe del mondo di specialità tre campionati del mondo di fila olimpiadi campione del mondo del super gigante come dicono scusate se è poco quindi non è che dobbiamo stare lì troppo a dire delle cose così a vantra ecco max una domanda sedici anni di gare in coppa del mondo qual è quella che rifaresti? bella domanda questa qua non saprei se dovessi scusate se dovessi se dovessi fare una gara per una vittoria sicura andrei in Valbadia per una bella gara un po' ovunque dai spero spero di mi auguro insomma di essere in grado ancora adesso di portare a casa un buon risultato su tutte le piste ecco ma spiegaci che cosa ha questa gran risa di così magico per te gran risa è la pista della Valbadia ma sai alla fine credo che ogni atleta abbia delle piste diciamo dove si esprime meglio e quindi quella è una pista dove ho sempre avuto un buon feeling sai noi abbiamo la fortuna di provare la pista solo in campo libero diciamo come sciata diciamo a turisti senza paletti il giorno prima e la pista è già preparata diciamo col manto nevoso abbastanza simile alla giornata di gara e senti queste cose e te le senti quando sci ti senti se hai quel feeling giusto che ti senti performante oppure no ecco quindi in Valbadia la prima volta che ci ho fatto quattro curve ho subito capito che era era una cosa per me ecco quindi poi quando ragioni in quel modo lì penso che sia anche diverso l'approccio no magari alla gara e poi è chiaro che ho fatto delle belle imprese dei bei numeri delle belle rimonte e quindi questo penso che sia un pochino la Valbadia ecco la mia Valbadia beh da parte lo sci vive molto di sensazioni no però anche la pista di Adelbode non è che ti dispiace così tanto no beh Adelbode è stata la mia prima vittoria nel 2005 l'11 gennaio mi sembra se non sbaglio il 2005 la mia prima vittoria in carriera quella è stata beh è stata penso il così il l'apice di quello che poteva poteva essere il mio sogno no alla fine di quei tempi quindi sono arrivato lì e ho detto vabbè ho vinto la gara coppa del mondo basta il mio obiettivo l'ho raggiunto grazie di vederci ti avrebbe voglia di dire così invece poi l'apolì diventi goloso è come quando vedi le caramelle le mangi una due tre e dopo non riesci più a smettere quindi l'Adelbode mi ha riservato bellissimi risultati poi dico sempre che è un po' come una seconda casa no perché ho sempre avuto un affetto così un calore da parte degli svizzeri incredibile vicino a casa ho fatto tantissime belle gare lì per secondi posti terzi quarti ho girato un po' la classifica un po' da tutte le parti in questi anni senti la vita da atleta nello sci implica anche tanti sacrifici mi hai pensato che ti è magari mancato qualche cosa nella tua crescita ragazzo insomma quello che fanno tutti i ragazzi che non sono così impegnati hai qualche rimpianto ma un messaggio molto chiaro io secondo me io non ho fatto tanti sacrifici dico la verità perché ho sempre voluto fare questo e quindi mi è sempre piaciuto svegliarmi alla mattina per andare a sciare mi è sempre piaciuto sciare col sole con la neve con la nebbia è chiaro che infatti quando mi dicono hai fatto tanti sacrifici ma forse il sacrificio ho fatto tre o quattro volte in tutta la mia vita diciamo la mia carriera quei tre o quattro giorni che proprio non avevo voglia di allenarmi ma forse tre o quattro giorni veramente in tutta la mia vita ecco quindi cioè io mi sono sempre divertito guarda e ho sempre detto chi ha fatto il sacrificio sono stati i miei genitori soprattutto mio padre che faceva due lavori per mantenere la mia diciamo il mio sogno ecco è quello anche di mia sorella che ha fatto un'altra strada ecco senti hai un fans club che continua a seguirti ancora ancora oggi no questa è la dimostrazione di un affetto ma sono incredibile sono semplicemente i tuoi amici o c'è anche gente che magari si sono del fans club magari non li conosci no no c'è di tutto c'è di tutto poi è chiaro che gli attivi attivo c'è la simu qua davanti che legge si smazza il 90% del lavoro quindi diciamo che la sua vita ormai è basata sul computer sui social e sull'organizzazione di tutti gli eventi poi è chiaro che ho ho riscontrato anche qua pian piano adesso uscendo un pochino dal mio schema che mi ha insomma che è sempre stata la mia vita quindi lo sportivo l'allenamento e le gare sto scoprendo una realtà diciamo che c'è sempre stata ma alla fine che non ho mai magari approfondito ecco quindi puoi vedere adesso c'è il pulmino però è buio c'è una non sono qua per caso ecco cioè ci siamo conosciuti anni fa e ci hanno messo praticamente una delle mie foto diciamo una delle mie stagioni migliori e l'hanno pellicolato un pulmino ho visto e quindi è tutta una come posso dire una bellissima così favola che va avanti e sinceramente spero non finisca mai ecco perché comunque bisogna creare sempre un qualcosa di nuovo per per rimanere un pochino attivi vedo che c'è il presidente che è sempre carico quindi chissà mai adesso ci si trova in altre vesti e si portano avanti magari altri progetti possiamo fare un piccolo fuori programma possiamo fare una domanda alla Simo e la facciamo fare lanciano il microfono vieni qua con noi che poi alla fine è tutto merito suo diciamolo terzo figlio diceva no io volevo una domanda semplicissima come si fa a essere la compagna di uno che non c'è mai spiegacelo bisogna andargli dietro bisogna andargli dietro che va anche forte come fai no ma in realtà poi si trovano i momenti per stare insieme non siamo mai veramente separati soprattutto adesso con tutta questa tecnologia quindi ai skype le telefonate no poi a parte gli scherzi io ho cercato di seguirlo sempre moltissimo alle gare dove era possibile andavamo anche con i bambini adesso vabbè con Ginevra è piccolina però per esempio alle finali c'era siamo stati a Cranisca agora quando possiamo lo seguiamo un po' perché secondo me la famiglia aiuta aiuta ed è stato bello anche far vivere ad Alessandro che ha 4 anni un pochino questo mondo e questo divertimento e quindi in realtà riusciamo a stare insieme lo stesso senti quella scena bellissima di San Moritz voi che entrate nel parterre d'arrivo quando lui ha appena tagliato l'ultimo suo traguardo ecco Alessandro il piccolo si chiama Alessandro secondo te cosa ha capito di quel momento lì? guarda sai che non lo so perché è stata veramente un'improvvisata perché noi fino all'ultimo non eravamo così sicuri di poter entrare perché come sai è molto difficile interrompere gare di questo genere lui soprattutto non lo sapeva nel senso che abbiamo chiesto ci hanno autorizzato lui mi ha raccontato che era in partenza ha visto la telecamera che ci inquadrava e ha detto ma cosa fanno di questi sono dei matti però vabbè ho detto boh proviamo andiamo solo che tra me e me dicevo adesso se Alessandro poi non vuole entrare sai i bambini sono un po' imprevedibili nel senso che fino all'ultimo non eravamo così sicuri e invece è proprio vero che Beata proprio non sapeva dove era come ha visto il papà è corso verso di lui hai visto come ha smarcato quel cameraman lui non l'aveva visto quindi ho detto oddio adesso gli va addosso ma è stato bellissimo perché è stato veramente naturale per lui cioè eravamo in mezzo a tantissime persone telecamere fotografi per lui c'era solo il papà e quindi è stato veramente emozionante tra l'altro insomma il suo classico gesto della vittoria è tirare il dardo non lo stavi anche per beccare non so se ti sei reso conto senti stai qua con noi perché adesso e avviso anche un attimo la regia c'è uno dei momenti più emozionanti almeno per quanto mi riguarda perché l'anno scorso avevi dichiarato finalmente era la tua ultima stagione è uno degli ultimi giganti hai compiuto una grandissima impresa se ce la vuoi intanto raccontare mentre se riusciamo a far partire il filmato di quel giorno dove siamo? siamo in Giappone mi sembra 16 febbraio giusto? 14 16 13 13 febbraio del 2016 partito dalle retrovie diciamo così con pettorale numero 20 quanto? 25 giusto? 27 eh beh beh io sono protagonista quindi non è che sto a guardare il numero diciamo che è partita un pochino così un po' da tempo ecco è partita già da gennaio perché mi sentivo bene con quelli sci una nuova diciamo una nuova sciancratura nuovo modello di sci mi trovavo molto bene e ho iniziato ad assaporare un pochino il miglior tempo i migliori tempi in allenamento e quindi ho iniziato a creare un po' di nervosismo in squadra anche quindi lì è stato ancora un altro vantaggio diciamo che è nato a mio a mio favore perché mi sono gasato da buon diciamo non posso dire atleta di esperienza ho capito subito che c'era qualcosa di diverso ecco mi sentivo bene avevo un buon feeling la settimana in Giappone diciamo che è stata è stata interessante sotto il punto di vista dell'allenamento perché strappavo di quei tempi veramente performanti e mi sono allenato molto anche insieme alla squadra francese quindi Pinturo Fevre che comunque hanno 5 atleti nei primi set in classifica e abbiamo sfruttato diciamo quella pista per così per fare anche un po' di sfide tra di noi sai non dico che mi hanno sottovalutato però insomma diciamo che Pinturo quando dai scommettiamo come dire al bambino si ti faccio contento no capito poi dopo quando l'ha presa insomma gli è girato un attimino il sono piccole soddisfazioni allora vabbè allora c'era sempre da 2-3 giorni e così sempre come i bambini come Renato Pozzetto abbiamo fatto 3 giorni e schiaffoni tra tutti quanti e lì dico la verità mi sono un attimo anche pompato perché ho detto cavoli se tiro fuori un paio di mancia come queste forse forse nei primi ci arrivo no e poi è stato a fare il garone è stato bello che tra la prima e la seconda maglia gli mando un messaggio a lei che era di notte ti faccio guarda che sono settimo nono quanto è che ero non mi ricordo neanche nono con la faccina sai che rideva come dire infatti mi fa pirla finisci la gara bene quando è finita la gara con il che faccina gli hai mandato allora raccontiamo come è andata io non mi sono mai persa una gara come potete immaginare quella gara la prima mancia era alle 2 di notte noi avevamo la bambina piccola avevamo un mese e mezzo purtroppo era malata in quel periodo io ero stanchissimo ho detto vabbè vado a dormire tanto no tanto cosa vuoi mai che succeda vado a dormire però no vabbè avevo tutto il tempo la seconda mancia era alle 5 infatti mi sveglio e dico guardo il telefono non lo guardo guardo il telefono lo guardo e vedo lui che mi scrive dopo la prima mancia nono con tutti i sorrisini figurati ho svegliato tutta la casa ci siamo messi tutti davanti al computer anche perché non andava in diretta quindi io mi sono perché lui poi ci ha abituato a queste a questi colpi di di tosse no al cuore perché insomma lui è arrivato giù primo dovevano scenderne ancora 8 siamo stati incollati a quel computer fino a quando poi non ha tagliato il traguardo l'ultimo e poi lì è esploso si si poi è esploso poi ci siamo sentiti subito quindi e devo dire che quando poi ho visto la gara veramente perché l'hanno mandata poi indifferita ero ancora emozionata non ero ancora sicura del rischio avevo ancora diciamo quella quell'agitazione che si ha ogni volta che guardi la gara in diretta insomma Max ecco come si convive quando si fanno gare dall'altra parte del mondo come alimentazione sonno allenamenti beh sono sono un bel problema ecco perché alla fine beh personalmente è sempre andata bene con i fusi orari mi sono sempre tratto abbastanza ho sempre cercato di usare dei metodi normali faccio un esempio America primi giorni quando arrivi là arrivi alle sei alla sera c'è un sonno che ti viene da buttarti per terra invece io ho sempre cercato magari di disfare la valigia alle nove di sera quando ero quasi lì per addormentarmi mi alzavo svuotavo la valigia cercavo magari di svuotare le casse tirare fuori tutte quelle cose di cose che è proprio voglia zero e andavo a dormire magari alle undici mezzanotte distrutto e poi alle sei sveglia e lì sembra di essere dentro un ciclone di quelli spaventosi però cerchi di ingranare fai due o tre giorni così e dopo prendi subito il ritmo se invece ti fai prendere diciamo da quello che è l'onda quotidiana diciamo del vecchio del vecchio fuso orario del tuo fuso orario del tuo orario è un bel casino perché poi non riesci a riprenderti ecco io ho avuto modo di intervistare diversi atleti ognuno di loro prima di entrare in gara ha un suo rituale scaramantico qual era il tuo rituale scaramantico? avete tempo? se avete tempo andiamo a casa la settimana prossima diciamo che io sono stato sempre abbastanza fissato in tutte le mie cose cioè io partivo già dal giorno prima che dovevo mettermi a posto tutto il mio materiale le mie maschere i miei guanti perché io ho i guanti da gara i guanti di allenamento cioè tutte delle robe che forse i bambini meglio che non ascolta mi dicono questo è fuori però avevo sta ridendo lei quindi chissà cosa c'è dietro a queste cose no poi tutto la calzamaglia da gara la dolce vita da gara le calze tutte queste cose e no perché tutto doveva essere preciso perfetto anche dentro la valigia cioè non è che poteva essere tutto insieme la valigia non me la faceva mai nessuno la facevo io cioè guai me l'ha fatta una volta a sette anni mia mamma mi ha dimenticato la roba mi sono incavolato come una bestia basta a sette anni mi sono sempre fatto la valigia giuro davvero e quindi la valigia doveva essere in un modo ed ero ancora a casa pensa a te che cinema poi dopo quando si arrivava sul campo di gara dividevo proprio ho sempre diviso tutto per bene nell'armadio in quella in quella zona lì va quella roba da gara cioè non dovevo mischiare le cose se no poi mi rovinavo già la giornata e poi diciamo che in gara la mattina invece era già tutto pronto dal giorno prima quindi lo zaino era già tutto bello preciso regolare quindi durante la giornata di gara era solo diciamo dovevo solo mantenere i tempi ecco le tempistiche non dovevano sgarrare ecco se no poi lì era un po' un casino però niente di che senti c'è un allenatore più di un altro a cui devi dire grazie? ma sicuramente grazie per per la pazienza che ha avuto quest'ultima stagione Stefano penso che veramente sia stata una persona che alla fine sai dico sempre nel momento del bisogno nel vero momento magari anche difficile di una carriera sai uno si mette anche in gioco ecco quindi lui come me ha voluto mettersi in gioco abbiamo creato questo staff in questa ultima stagione uno staff che sicuramente ha funzionato ci siamo allenati molto a SESFE abbiamo fatto base lì per tre mesi durante tutta l'estate e poi tutto l'inverno abbiamo fatto dei buoni allenamenti mi sono integrato ogni tanto anche con la squadra quando si poteva e quindi devo dire grazie soprattutto anche a lui perché ripeto nel momento del bisogno è quello che mi ha dato una mano è stato lui senti sei stato ambasciatore dell'Expo no? è un ruolo è stata una cosa molto importante te l'aspettavi insomma come è nata questa cosa beh diciamo che è stata una bellissima avventura è stata una bellissima esperienza perché aver fatto parte come ambassador dell'Expo mi ha come posso dire gratificato di quello che appunto è stato poi anche tutto il sistema perché l'esposizione universale il tema era appunto basato sull'alimentazione diciamo che è stata è stato sono stati mesi belli importanti dove mi hanno mi hanno portato anche delle a conoscere delle persone altrettanto famose dei personaggi veramente unici è stata una bellissima esperienza riuscire a portare anche all'interno delle scuole dei progetti che ci sono stati in quei mesi appunto il tema dell'alimentazione perché comunque si parlava tanto di Expo però si andava nel profondo a chiedere ma cos'è? sai se dirmi cos'è nessuno sapeva dirti cosa fosse boh è una fiera che c'è a Milano ti diceva ma che fiera non è una fiera e quindi il portare all'inizio ancora prima dell'apertura di Expo il messaggio nelle scuole o comunque nei vari centri è stato è stato un bel impegno ma è stata anche una bella esperienza anche perché io credo molto nel connubio sport e alimentazione e quindi sono stato ben felice di portare il nome di Expo anche sul mio casco in giro per tutto il mondo senti adesso adesso inizia una seconda Coppa del Mondo che è quello che avviene dopo l'attività agonistica sappiamo non lo diciamo lo sappiamo non vuole chi dica una cosa non la dico però quali sono i tuoi progetti le tue aspettative nel dopo agonismo diciamo che è difficile risponderti perché comunque è facile caderti nel tranello però rimarrò sicuramente lo dico rimarrò sicuramente nell'ambiente nel mondo sci nel mondo neve avrò un ruolo diverso ma comunque sono fiero di questa possibilità che mi è stata data perché comunque credo molto anche nel trasmettere nel comunicare comunque sia dei messaggi importanti nel mondo della neve quindi bisogna far appassionare ancora di più i tifosi e quindi spero di rimanere più a lungo possibile sulla neve al momento con tutte le qualifiche come istruttore nazionale allenatore maestro di sci ho intrapreso una strada ovviamente di questo genere l'insegnare mi piace mi piace molto quando vedo anche che quello che insegno viene così messo sul campo nel migliore dei modi viene capito viene preso viene colto e viene anche sfruttato sono ancora più contento quindi diciamo che se durante le gare accenderemo la televisione potremo ancora vederti e sentirti così potrebbe capitare casualmente casualmente ok non ti è mai venuto in mente non hai voglia magari di fare come sta facendo Davide Simoncelli in eravate in squadra lui ha smesso un anno prima di fare l'allenatore di seguire ancora stare ancora sulla neve con questo ruolo lui al momento fa alleatore del comitato Trantino mi piacerebbe ho avuto qualche possibilità qualche offerta così da qualche squadra da parte di qualche squadra per intraprendere questo cammino della Coppa del Mondo oppure continuarlo diciamo in altre vesti però mi sono voluto un attimino prendere questa stagione un pochino non dico di riposo perché è tutt'altro però un pochino così per di diciamo di come posso dire di riflessione di riflessione di riflessione per per così cercare di di capire anche quale poteva essere anche la la strada vincente ecco la strada migliore per me sai le scelte prese così di fretta quando quando uno da tempo fa fa sempre l'atleta fa sempre una determinata cosa il cambiare il decidere di fare qualcos'altro in un mese forse poi a distanza di tempo capisci di non aver fatto la scelta giusta quindi ho voluto un attimino prendere le cose con calma e devo dire che è stata la scelta giusta tornando un attimo al terzo posto la gara in Coppa del Mondo la tua compagna ha detto che si è resa conto dopo aver visto la differita ecco quando si va sul podio è sempre un grandissimo risultato dopo quanto si realizza di aver ottenuto un grande risultato subito o magari a volte anche dopo qualche giorno io dopo due secondi l'ho capito non ti dico quello che ho pensato però è una serata piena di bip questa qua tra poco finisce la fascia protetta beh ma lui sa perché quindi diciamo che qualcuno sa anche le motivazioni via quindi però è normale chiaro che come ho detto sentivo che c'era qualcosa di diverso ecco quando mi sono buttato in gara ho visto subito che che c'era che il motore era giusto ecco era messo era da gara ecco poi è chiaro che il pensiero a volte non è proprio anche come il risultato poi alla fine però quando ti senti performante riesci a scaricare quello che è la tua performance nel migliore dei modi se un atleta diciamo non è nuovo a certi tipi di risultati è chiaro che capisci subito che hai fatto una bella gara ecco allora io ho visto Max all'opera nel ruolo di istruttore istruttore nazionale non è che ce ne sono tantissimi in Italia fa parte di un nostro giochino si chiama Asciare Campus che sono dei corsi di perfezionamento per malati della tecnica e qua ce n'è qualcuno sì sì ce n'è sicuramente recuperarli è vero o no è un centro di recupero no ma mica male no no guardate un po' su internet no quello che volevo chiederti è questo ti ho visto eri lì con una pazienza pazzesca però loro questi questi allievi erano estasiati però mi chiedo per un atleta come te per chi ha scia in questo modo è più difficile oppure è più facile recepire quello che ti viene detto di fare oppure trasmettere quello che devono fare secondo te cioè insegnare o imparare beh insegnare non è facile perché devi trovare la giusta chiave per ogni singola persona perché non tutti recepiscono comunque sia il tuo insegnamento nello stesso modo quindi devi cercare di trovare il canale diciamo più pulito possibile per arrivare all'obiettivo ecco quello penso che sia la cosa più difficile ecco perché l'imparare un libro più o meno c'è chi è più bravo chi meno però ti arrangi ecco in qualche modo però trovare la strategia giusta di insegnamento quello ho notato che è la cosa più difficile nonostante abbia comunque una buona esperienza ogni giorno è sempre una cosa nuova e quindi riuscire ad inquadrare le persone dal loro modo di fare dal loro modo di pensare magari è un bel casino quello lì però sono sempre riuscito a trovare la strada giusta per il momento ecco è sembrata bene per il momento c'è qualcosa che cambieresti nel mondo dello sci? beh sicuramente gli sci in primis trovando il discorso di prima dei bip di prima ecco no vabbè a parte gli scherzi sì bisognerebbe bisognerebbe diventare bisognerebbe far passare la categoria degli sciatori sotto professionismo al che si potrebbero costruire delle belle cose ecco al momento sotto sotto il ramo del dilettantismo è difficile perché ci sono delle dinamiche diverse e quindi è un peccato perché secondo me alla fine ragazzi che stanno fuori 11 mesi su 12 da casa e chiamarli dilettanti mi sembra un po' così come un insulto ecco senti ancora una domanda tecnica tu hai cambiato non tantissime marche di sci però ti è capitato e si vedono anche degli atleti che magari dal top finiscono giù perché hanno cambiato marca e non riescono più a sciare ma c'è così tanta differenza col cambio materiale più che altro è un adattamento penso nel cambio del materiale però come ho sempre detto deve essere mentalmente vincente perché se tu cambi il materiale solo per un interesse economico è un discorso se lo cambi perché mentalmente pensi che tu possa essere vincente con quel tipo di materiale è già vinto quindi parti già con una marcia in più io ho sempre avuto questo pensiero e questo modo di pensare che poi alla fine mi ha portato a raggiungere dei veri risultati come hai detto tu con tante marche di sci con alcune marche che rapporto come hai capito o come vieni come sei stato coinvolto con il mondo dell'industria diciamo e delle sponsorizzazioni perché per un atleta sei in una squadra fai quello che ti viene detto però poi si capisce che è importante anche quel lato lì quello più professionistico tu come ti sei rapportato nel confronto dell'industria o del professionismo ma come intendi a livello come posso dire come sei capito che dovevi proporti a un certo punto e cercare di creati anche un personaggio per essere interessante per gli sponsor sicuramente di cercare di essere disponibile in quei pochi eventi che annualmente insomma mettono in calendario quello è fondamentale puoi cercare di collaborare adesso sono nati da qualche anno da un po' di anni questi social che è il nuovo mondo diciamo il mondo parallelo però devi cercare di di dare al proprio sponsor al proprio partner quello che insomma ti richiede ecco chiaro che bisogna da entrambe le parti essere disponibili sia sotto il punto di vista del materiale che deve essere sicuramente performante devi creare una collaborazione anche a livello di sviluppo secondo me importante da entrambe le parti non si può bisogna lavorare tutti in una direzione e poi sotto il punto di vista diciamo quello del del marketing sicuramente bisogna anche lì andare di pari passo cercando di trovare anche dei canali giusti dove poter sfruttare la tritta perché ci sono anche dei vincoli federali piuttosto che militari che insomma bisogna cercare di come posso dire di inserirsi in determinate dinamiche che poi che dove all'interno poi puoi spaziare facendo della della pubblicità piuttosto che altro abbiamo visto che il piccolo Alessandro è già partito a fare le prime curve poi vedremo se vorrà fare lo sciatore oppure è carico è carico ecco ma da genitore questo anche te se vuoi rispondere anche te vivete sempre vissuto nel mondo dello sport quali sono secondo te i valori che hai imparato tu e hai assimilato nel mondo dello sport che ti senti di più di trasferirgli quelli più importanti ma sicuramente il valore del rispetto perché quando si è in gara o all'interno di una classe non si è da soli ma bisogna avere comunque sia rispetto per gli altri bisogna farsi rispettare ma bisogna avere rispetto per gli altri scuola studio o sport che sia quello è fondamentale bisogna essere comunque allo stesso tempo dei corretti giocare in modo corretto e dare sempre il cento per cento perché solo in quel modo lì puoi non avere rimpianti però non è fondamentale vincere ma è fondamentale a divertirsi e come ho detto dare il cento per cento poi se sono rose fioriranno bravissimo c'è qualche domanda che viene dal pubblico che volete fare posso dire una cosa mio figlio non la pensa tanto così mio figlio vuole solo vincere se no si arrabbia come una bestia è incredibile prima io secondo te va bene è quattro anni che dice la stessa frase capito è incredibile da scendere le scale andare a sciare cioè da scendere le scale di casa ad andare a sciare lui deve sempre vincere cioè la sfida facciamo una sfida però vinco io gli ho detto va bene va bene l'ho già perso in partenza preferiresti dicesse il contrario non credo no 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 però diciamo vabbè ma con un papà così sì ma io non gli ho mai insegnato il vincere per forza quindi è proprio nato già a blocco così quindi è colpa sua no perché dice che è colpa tua perché si è da sempre colpa la moglie l'ha fatto lei un pregio e un difetto di Max no non devo perdere le cose se no mi arrabbio io se lascio una cosa lì e poi dopo la perdono la trovo mi cavolo come una bestia eh sì si può perdere lui quindi io? sì neanche a carte neanche a briscola proprio vabbè diciamo il difetto è questo mentre il pregio vai sul pregio vai sul pregio dai ma il pregio alla fine poi l'avete visto anche voi è molto ehm non ne ho no no però per esempio se devo dire una cosa che mi aveva colpito quando l'ho conosciuto è stata l'umiltà lui è molto una persona molto umile una persona molto sincera e insomma quando parla e vabbè poi quando parla della sua vita del suo sport è uno molto passionale cioè ti fa ti trasmette proprio eh tutta tutta l'energia tutte le emozioni che poi lui ha vissuto in in tutti questi anni eh quindi è proprio questo lato del suo carattere che che ti colpisce poi è una persona molto alla mano quindi riesce a entrare subito in un in un bel feeling con lui ecco qualche domanda dal pubblico una domanda prego eccola lì al di là che secondo me è un pregio voler per forza non si vede niente vero ecco mi guardavo di là no secondo me è un pregio voler sempre arrivare primi anche giocando a briscola è un pregio è un pregio forza toro ok qua siamo a Novara mi cazziano no una domanda siccome noi pratichiamo siccome noi pratichiamo un po' di sci sicuramente a livelli completamente diversi però ritengo che sia uno sport mediamente anche abbastanza pericoloso no adesso una domanda come genitore e lei come moglie o compagna e mamma effettivamente tu hai detto che lo seguivi sempre ovunque in qualsiasi gara andavi anche a dormire adesso avete un figlio che potrebbe intraprendere anche questo tipo di attività ma effettivamente prima di una gara o durante una gara un minimo di timore un minimo di preoccupazione per quello che era Max durante le gare è quello che potrebbe essere anche il vostro figlio cioè anche in termini di preoccupazione o questo l'importante è che non faccia discesista ecco piuttosto che vado un po' sul fondo ecco piuttosto e se no lì veramente passerò delle belle notti in sole occhio perché ci sono Simone e Ivan e Rigone che stanno cercando delle nuove recluti io te lo dico no 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 lasciamo perdere andare veloci sì ma senza esagerare ecco diciamo che ma no c'è il pericolo c'è anche ormai c'è anche passando sulle strisce pedonali in città quindi perché passi se tranquillo ti stirano quindi se guardiamo quello non usciamo neanche più di casa ecco quindi sicuramente diciamo che non è proprio uno sport da tavolo o via e quindi un po' di come posso dire un po' di timore magari ci può ci può anche stare ecco però sai è sempre stata la mia vita lo è ancora e sinceramente dovesse farlo anche Alessandro sarei contento ecco di questo poi ripeto se dovesse diventare un campione per sua fortuna e un giorno dovesse succedere un infortunio speriamo di sistemarlo via le ossa dicono che si mettono a posto quindi a meno ecco Max tu hai parlato prima di idoli anche il tuo idolo è detto che è stato Alberto Tomba sicuramente hai avuto modo anche di conoscerlo al di fuori delle piste com'è Alberto Alberto per me è una gran persona ecco quindi tanti tanti pensano che sia una gran persona tanti un po' meno però io ho avuto modo la fortuna di conoscerlo e devo dire che al di là di quello che sono stati i suoi risultati è una persona veramente semplice è una persona abbastanza timida che non si direbbe e forse nascondo la sua timidezza con quel tocco un pochino di di un po' guascone così quindi è una gran persona e sono felice ancora oggi di di essere in contatto con lui e ogni tanto ci si vede al di là della neve quindi è bello perché poi ripeto quando conosci quando il tuo idolo riesci a conoscerlo in qualche modo poi porti avanti un'amicizia si può dire come la nostra è bello ecco io devo dire sono cresciuto con Alberto ed è stato veramente una bella una bella una bella esperienza un bel insegnamento per quanto per quanto possa essere stato un insegnamento per me ecco perché alla fine nello sport nello sci per me è stato un idolo è stato anche un esempio ecco ecco alla fine della stagione 2015-2016 diciamo che hai deciso di appendere di sci per quanto riguarda il professionismo al chiodo cosa ti ha portato a questa decisione quando si capisce che ora di smettere ma dico sempre che non è che si può fare l'atleta in eterno quindi preferisco ho preferito così prendere questa decisione sicuramente diciamo importante dolorosa diciamo perché alla fine è bello ritirarsi per l'amore di Dio però ho voluto farlo ancora diciamo lasciando un bel ricordo ecco a questo a questo mondo ecco poi sono riuscito a raggiungere questo podio importante in Giappone che mi ha proprio regalato quel risultato tanto atteso che che da anni cercavo perché volevo appunto dedicare questo risultato ai miei bambini all'inizio ce n'aveva solo uno poi è arrivato anche un altro pensa quanto è durato questo sogno è durato quattro anni cazzarola però sono riuscito a raggiungere questo risultato no seriamente sono riuscito a raggiungere questo questo podio è stata veramente proprio la ciliegina sulla torta anche di più perché è stata proprio una cosa esagerata e lì ancora più ho avuto come posso dire la conferma è che forse sarebbe stato il momento giusto per ritirarsi e di fatti penso che sia stato bello anche così senti che squadra hai lasciato o meglio tra una settimana c'è Sulden secondo te come vedi i tuoi ex compagni di squadra? come li vedo sinceramente poi questa estate non è che li ho visti cioè non li ho visti molto non li ho visti mai perché sai quando sono proprio uscito un attimino da tutto ecco però voci di corridoio insomma c'è qualcuno un po' più in forma di qualcun altro c'è Borsotti purtroppo si è rifatto male un'altra volta al ginocchio è sicuramente un giovane su cui l'Italia puntava già da tempo Nani diciamo che è quello un pochino più in forma rispetto agli altri insieme anche a Isat che comunque non è più tanto giovane ma diciamo che sempre fa parte del gruppetto dei primi 15 di Coppa del Mondo poi abbiamo Mölge che secondo me neanche lui è più tanto giovane però comunque è sempre una pedina importante perché all'interno della squadra è quello che comunque ha portato due medaglie ai campionati del mondo gigante e quindi chi sa mai che insomma sia la stagione giusta anche per lui per fare qualche bel podio ecco Un'ultima domanda Max questa sera abbiamo qua tantissimi sciatori qualcuno anche non è uno sciatore il tuo messaggio a chi vuole iniziare a mettere sugli sci? Posso farlo di là già perché comunque c'è il simulatore quindi due curve possiamo già andare a farle subito pronti via il messaggio è quello sicuramente è uno sport è uno sport è un diciamo una una passione che è bella una bella passione interessante ti può far conoscere delle dinamiche delle realtà veramente sconosciute si sta in mezzo alla natura in mezzo all'aria pulita poi voglio dire ognuno lo può intraprendere questo percorso in modo molto sereno perché ci si può divertire si può imparare da zero giusto per andare a sciare nel weekend magari anche con lo sci club e quindi voglio dire sia tutta la tutto quello che è possibile fare penso sul mondo della neve sia penso sia bello ecco da intraprendere come cammino poi è chiaro che bisogna come in questo caso spostarsi un pochino dalla città e andare sulle sulle alpi sulle nostre montagne ma magari anche un po' in val d'ossola non solo verso la val d'agosta ecco anche la val d'ossola è bella è carina no? ha fatto gli impianti nuovi ha fatto gli impianti nuovi adesso allora innanzitutto grazie sei stato straordinario se me lo concedete io volevo chiudere questo incontro in questo modo io ho il vizio di scrivere il mio lavoro e ho scritto tante cose su su Max anche perché c'era tanto da scrivere non a livello di cronaca perché insomma mi è sempre emozionato tantissimo se me lo concedete io qui ho portato l'ultimo articolo che ho scritto su Max non ve lo leggo tutto perché se no facciamo note ma le ultime dieci righe se riesco a leggere senza occhiali e ve le volevo leggere perché secondo me sintetizzano molto il personaggio il personaggio Max allora l'ho scritto dopo l'ultima sua apparizione sulla Gran Risa in Alta Badia ovviamente è la parte finale allora dice dico quest'anno ha a disposizione ancora qualche gara per concludere la carriera anche se difficilmente lo rivedremo sul podio ma ce lo auguriamo con i ragazzini talentuosi e fuoriclasse che si trova davanti a me è bastato vivere l'emozione che mi ha trasferito nella sua ultima apparizione sulla Gran Risa quando partito nella prima manche col pettorale 56 si è classificato ventunesimo il risultato in sé è poca cosa eppure la tribuna ha tremato le trombe hanno squillato per svariati minuti e il pubblico si è messo a urlare come per un gol della squadra preferita perché aveva capito il motivo per cui Blardone si trovava ancora lì a 36 anni a combattere con le durissime leggi fisiche dello slano gigante che necessitano di una preparazione tecnica fisica e mentale da Superman al traguardo visto il risultato la sua gioia era lo specchio di una vittoria quella vittoria che proprio sulla Gran Risa ha vissuto per ben due volte quando lanciava verso il cielo il dardo della felicità probabilmente la decisione faticosissima di rimanere nel giro ancora una stagione è stata ripagata da quella manche la manche di un campione unitevi a me e dite grazie Max è un po' la sintesi di Max Blardone poi l'augurio è stato premiato con il podio io ringrazio Max Blardone per essere stato con noi questa sera un forte applauso grazie a tutti un saluto e un ringraziamento anche alla compagna Simona e al direttore della rivista sciare Marco Di Marco ricordiamo che adesso la serata continua con grande musica con i nostri dj e a sciare tutti con Max però 5 euro il biglietto di entrare e un grazie ancora a nome di tutti con i nostri